Il re del basket da Pistoia all'istante del mondo, qui domenica abbiamo detto alla Bisciglia che avrebbe vinto la squadra e avrebbe espresso il gioco più plurali, ma è contanto da Pistoia che Pistoia è arrivata. La Vittoria è arrivata, siamo contenti però in serio non è finita, sicuramente a questo punto non si può veramente contare Vittoria che non è arrivata più, quindi sarà una un'altra battaglia venerdì, non ci auguriamo che basti solo voi. Sicuramente Andrò Marchesani però con un altro spirito, con un pochino di sicurezza anche più chiaramente, con due risultati utili alle spalle, però ripeto, queste serie qui bisogna alzarle in braccio quando sono finite, ma rischia di essere troppo presto. Grazie mille.